bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un bel po di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite la skin di capitano america è arrivata finalmente ma vedremo degli aggiornamenti sui veicoli e vedremo anche un nuovo forziere che happy games sta creando e che molto probabilmente vedremo in game prima della fine di questa season prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è il tweet ovviamente che ieri pomeriggio ufficialmente rilascia fortnite nella sua pagina ufficiale che annuncia appunto l'arrivo oggi di capitano america nello shop anche un omaggio ovviamente alla festività di domani proprio americana quindi il 4 luglio capitano america arriva però anche con una challenge dedicata che vi garantirà se non ricordo male 25 mila punti esperienza questa challenge praticamente consiste nel far partire i fuochi d'artificio attorno al lago languido rilasciare appunto che il fuoco d'artificio crei lo scudo di capitano america ce ne sono sei dovete farne partire cinque giustamente la domanda che mi fate ex judo ok dove cavolo sono questi fuochi d'artificio va bene ragazzi molto semplice ecco uno schema davvero semplificato che vi fa capire tutte le sei posizioni intorno al lago languido vi ricordo fatene partire cinque su sei per ottenere un po di punti esperienza e se volete scrivetemi qua sotto come vi sembra la skin di capitano america e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa è un'immagine che sta facendo il giro da un paio di giorni di tutti i forum delle pagine twitter e di tutto quanto riguarda il competitive di fortnite perché questa ragazzi è l'immagine del background della galaxy cup un torneo competitivo abbastanza particolare e vi faccio vedere anche il perché se andiamo a leggere nella stringa di codice tutto quello dedicato al torneo ci dice titolo galaxy cup descrizione join galaxy owners quindi solamente sembrerebbe i possessori delle skin galaxy in questo torneo di fortnite su invito per avere una chance di vincere il nuovo set galaxy girl allora quindi non abbiamo purtroppo un'immagine ufficiale adesso ve ne faccio vedere una ma prendetela con le pinze arriverà la versione femminile della galaxy sono anni che si parla di una versione femminile della galaxy finalmente sembra che ci siamo e i vincitori non si sa bene ancora quanti di questo torneo vinceranno in anteprima e gratuitamente tutto il set quindi vuol dire che ci sarà il piccone la skin il backpack non credo il deltaplano la data di questo torneo è il 25 e il 26 luglio serve avere ovviamente il 2 fa è davvero un account più alto del livello 15 questa è un'immagine che sta girando io non mi posso sentire di dirvi che è un'immagine ufficiale quindi prendetela con le pinze se così fosse molto carina lei molto carina quella coppa potrebbe anche essere un emote dedicata non lo sappiamo però io ve lo faccio vedere e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché si torna a parlare di veicoli ogni volta che ci sono degli aggiornamenti sui veicoli io ve li dico con il massimo con la massima attenzione quello che vi voglio dire oggi è la ltm che verrà rilasciata quando verranno rilasciati i veicoli e sappiamo che la ltm sarà praticamente una corsa di macchine si chiamerà chrome race ltm abbiamo delle stringhe che ci fanno vedere le indicazioni praticamente quando facciamo partire l'ltm i tips noi consigli la prima race to the finish quindi guida fino alla vittoria fino alla fine get to the finish line however you can raggiungi la linea del traguardo in qualsiasi modo tu puoi no points for the second place nessun punto per il secondo so faster is better il più veloce è meglio more than one way to win questa interessante più di un'unica chance per vincere il che vorrebbe dire che probabilmente non sarà sufficiente essere veloci a guidare i veicoli molto probabilmente dovremmo associare anche lo sparare dai veicoli non lo so gta gta sugli elicotteri i veicoli i motoscaff e fai gta dove tommy versetti dove allora take out of the competition if it helps teleporting to the starting line quindi ci sono tutte delle informazioni e per terminare abbiamo anche un altro è un'altra serie di consigli do whatever you can to get to the finish line first fai quello che puoi per raggiungere per primo la linea del traguardo e poi ci sono ovviamente i countdown quindi 3 2 1 go e ovviamente l'ultima riga è quando si arriva alla vittoria you have reached the finish line quindi ragazzi credo come già vi anticipavo che i veicoli non li vedremo prima di fine luglio quindi incrociamo le dita e aspettiamo adesso ci saranno ci saranno quegli 8 10 giorni di pausa per tutto lo staff dalla prossima patch si spera di vederli in game e andiamo avanti perché voglio parlare ancora di acqua man di una nuova particolarità che è stata scoperta ma nella modalità replay forse non lo sapete ragazzi ma se entrate nel replay e andate in alto a sinistra nella mappa poche parole l'isoletta che è spawnata una delle tre piccole isolette di roccia che sono spawnate con l'abbassamento del livello dell'acqua non lo vedete in game ma lo vedete nel replay c'è il tridente di acqua man infilato lì prepotente tipo spada nella roccia questo ci conferma ovviamente anche se già lo sapevamo che tutta questa porzione di mappa sarà dedicata ad acqua man ci saranno le sue challenge ci sarà probabilmente lui stesso come boss della location che si chiama le rovine una curiosità andate a dargli un'occhiata nel replay se lo volete vedere da vicino ve lo dico perché ci sta da sapere e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa è un'immagine davvero molto interessante anche qua vi dico prendete l'immagine con le pinze non sono sicuro che sia proprio quella che vedremo in game sono invece sicuro che quello che sto per dirvi è ufficiale stanno cominciando quelli di epic games a lavorare su un nuovo forziere che si chiamerà madbox o meglio madbox è il nome che viene dato da chi lo ha scoperto non sappiamo il nome ufficiale epic sta lavorando on a madbox che arriverà prima o poi questo è molto simile a un forziere ma rilascerà solamente le cure scendini e ci vuol dire bende medici te cose così o altro e adesso vi dico abbiamo anche dei dati quindi siamo tranquilli che sia una notizia sicura se dropperà il forziere delle cure avremo il 33,33 per cento per avere le bende lo stessa percentuale per avere il medici la stessa percentuale per avere un campfire quindi tornerà in questa season il campfire portatile era un bel po che non lo vedevamo ed è veramente micidiale nonché utilissimo soprattutto per gli endgame soprattutto in arena se invece dropperà degli shield avremo il 50 per cento di avere gli shieldini o il 50 per cento di avere gli shieldoni quindi una cosa davvero interessante e prima di salutarvi volevo farvi vedere un paio di cose anzi dirvi un tips vi ricordo che da ieri pomeriggio è disponibile la modalità oro massiccio sfruttatela sfruttatela per le schede punti numero uno nella modalità oro massiccio dovrebbero sponare solo i forzieri rari questo vi permette di prank finire easy la scheda punti numero due nella modalità oro massiccio dovrebbe essere più comodo trovare gli rpg sfruttateli per fare la kill con i bazooka perché altrimenti ragazzi è una di quelle schede punti che non verrà mai mai fatta e prima di salutarci un'ultima curiosità come sapete epi games spesso e volentieri prende spunto dalle immagini che su reddit prendono più like più condivisioni più commenti è una delle schiene che è stata trovata nella patch 13.20 ancora non rilasciata come vedete esattamente uguale ad una schiene che era già stata proposta quindi tanta roba anche per qua forse non hanno voglia di fare le skin e quindi cercano le cose migliori per poterle fare tirare sul grano insomma ragazzi anche per oggi ho tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali ea me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao